Fuori Maria Ricchiuti, dentro Giovanni Guzzo. Noviveglia in maggioranza, Vallo della Lucania passa all'opposizione. Non poche novità sono arrivate dal Consiglio di ieri sera della comunità montana Gelbison e Cervati con sede a Vallo della Lucania. La seduta presieduta dal presidente dell'ente montano, Carmine Laurito, ha ufficializzato il cambio tra i banchi dei consiglieri. Un cambio che arriva dritto dal comune di Noviveglia. Perché dopo le elezioni comunali che hanno portato alla vittoria sindaco di Adriano De Vita, entra nel Consiglio dell'ente montano il consigliere comunale Giovanni Guzzo. Prende il posto di Maria Ricchiuti, caduta da sindaco di Novi ed uscita sconfitta dalle ultime consultazioni elettorali. Un cambio quindi tra l'ex sindaco Maria Ricchiuti e il suo ex vice sindaco Giovanni Guzzo, ora schierati su due fronti politici opposti. L'entrata di Guzzo non è l'unica novità in seno al Consiglio della comunità montana. Noviveglia, fino a ieri, in opposizione alla maggioranza presieduta dal Laurito, con la vittoria di Adriano De Vita alle elezioni comunali, passa in maggioranza. Unitamente ai comuni di Perito, Orria, Moio, Canalonga, Ceraso e Gioe Cilento. In opposizione passa invece il comune di Vallo della Lucania con il consigliere delegato Marcello Ametrano. Auguro che l'ente possa svolgere in serenità il proprio lavoro, commenta il presidente Laurito. Unico rammarico la posizione di Vallo della Lucania, unico comune in opposizione e unico comune ancora indeciso sull'approvazione del piano di assestamento forestale. Unico rammarico la posizione di Vallo della Lucania